Eh sì, ciao Morris, caro Anthony, io te l'avevo detto di posare il fiasco, non mi hai dato retta, e vabbè. Adesso cosa facciamo? Esci? Ci dai una mano a noi? Facciamo un altro Raymond Franz Biss? Scriviamo un libro? Eh, sarebbe bello, sarebbe bello, almeno ci dai una mano, così, diciamo, ti redimi anche un po' dal discorso che ci bruciavi come fiammiferi, che ci calpestate poi nel giorno del giudizio, insomma, quelle robe lì, dai, che hai detto, adesso forse questa cosa ti è impartito una lezione di vita, è ora che ti hanno buttato fuori, eh, lo so. Ma, ma del discorso del whisky, ma perché non ci hai mandato un portaborse, qualcuno? Cioè, siete talmente serviti e riveriti, che mi chiedo come sia possibile che ci sei andato tu di persona, che sei un personaggio pubblico. Eh, ma infatti mi hanno detto, venite qua in Italia, andate nei migliori hotel, siete serviti e riveriti, siete, però ci sei andato te. Tant'è che mi riferiscono che toccano anche le vostre macchine come fossero oggetto di idolatria, poi dite agli altri che toccano i santini, che credono a queste cose, che sono superstiziosi. Poi, i vostri adepti toccano le vostre macchine come foste veramente delle rockstar, veramente, cioè, la coerenza proprio incredibile. Comunque, Morris, mi è fatto piacere che ti sei sfogato, ora ti devo lasciare che ho da fare il video con gli apostatacci. E mi raccomando, eh, dai, speriamo che questa cosa ti faccia capire che nella tua organizzazione, finché sei in linea va tutto bene, nel momento in cui c'è un po' di dissenso, lo vedi come, no? Ti fanno fuori, tutto quello che hai fatto nella vita è cancellato, è cancellato completamente, avresti potuto fare il bene totale per tutti questi anni eppure poi dimenticato. È così che funziona, eh? Fai cento cose fatte bene, ne fai una fatta male, che poi male per i loro parametri, perché male non è male, per i loro parametri, appunto. Eh, vedi come, ti buttano fuori dal corpo direttivo e poi, chissà, magari, ci viene a fare compagnia anche a noi apostatacci. Dai, Anthony, grazie da chiamata, tante care cose. Dai che ora c'ho da parlare con gli apostatacci. Ciao, ciao, ciao. Cari amici, ben ritrovati in questo video. Come ben sapete, immagino tutti voi, Anthony Morris è uscito dal corpo direttivo. E ci sono tante cose da dire, infatti spero di non incespicarmi nei vari discorsi. Facciamo le cose, diciamo, con ordine. Allora, innanzitutto vi volevo dire questo. Questo è un video puramente speculativo, cioè non ho prove tra le mani, si fanno solo ipotesi in base a cose che poi vi spiegherò. Sono ipotesi, quindi io mi smarco dal discorso della diffamazione a mezzo stampa e sto facendo una chiacchiera da bar con voi, fondamentalmente. Perché non posso fare altrimenti? Perché non abbiamo nulla fra le mani che ci possa dire questo, effettivamente è così, ok? Allora, non avendoci nulla, facciamo delle chiacchiere così tra di noi spassionate. Allora, cos'è che è indicativo in questa storia di Anthony Morris? che è stata data la notizia nel JV News, che è praticamente un trafiletto assettico in cui c'è scritto che Anthony Morris non fa più parte del corpo direttivo che è stato detto, insomma, alla battle, la Warwick, una sede mondiale. Allora, la prima cosa che ho notato quando mi è stato riferito questa cosa qua e che poi vedo che anche altri hanno notato proprio il modo in cui è stata data la notizia che è più comunicativo rispetto alla comunicazione vera e propria. perché la comunicazione vera e propria non fa capire se Anthony Morris si è dimesso o se lo hanno buttato fuori. Il modo in cui è stato comunicato questo invece fa intuire che in realtà è palese che è stato buttato fuori. Perché? Perché noi conosciamo bene come sviolina la Watchtower quando un membro del corpo direttivo magari si dimette o muore ricalcandone i grandi pregi, rivivendo la vita, insomma, elogiando, 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 propagandisticamente, tant'è che anche da testimoni di Giova la cosa può risultare stucchevole da quanto si elogi questa persona come se fosse un santo sceso in terra anche perché per loro sono santi queste persone qua, vabbè. Allora, in realtà no, c'è stata questa comunicazione assettica, fredda che fa capire, a mio avviso, palesemente, poi magari ve l'ho smentito, ma fa capire palesemente che questa persona è stata buttata fuori. E allora, qua c'è da capire quali possono essere i motivi e ci sono un po' di ipotesi che volevo trattare con voi. Una che ho, che è la più complottistica, che è la prima cosa che ho pensato, vedo che altri non me l'hanno fatta notare sta cosa, quindi è forse, diciamo, il nocciolo del video che vi tengo alla fine. Prima vi parlo di ipotesi che ho pensato e poi ho riscontrato anche magari nella community che parlava oppure, insomma, di persone con cui sono in contatto che si sono fatti le stesse idee che fondamentalmente mi sono fatto io. Prendiamo la prima. La prima cosa che mi viene in mente, pensando a Morris, è il bottle gate o il whiskey gate, chiamatelo come volete, quando Morris è stato sorpreso in un negozio, in un alimentare, che praticamente stava scegliendo i whisky e poi la persona con cui stava parlando evidentemente era un apostata che lo conosceva. O se non era un apostata, era comunque un pimo, un testimone di Geova, insomma, borderline, che ha visto Morris e ha iniziato a filmarlo di nascosto. E a chiedergli anche informazioni sul whisky, queste cose qua. Insomma, il caro amico Morris se n'è uscito dal negozio con non so quanta spesa, non mi ricordo quando, quanto si erano, 800, 900 dollari, 700, non mi ricordo. Non è che sono appassionato di queste cose qua, vi dico la verità. Non sono un corpo di rettivologo, questo lo voglio premettere, perché secondo me corpo direttivo è una marionetta, ve l'ho già detto in altri video. Quindi stiamo parlando comunque di ciò che si vede dell'organizzazione, ma secondo me, diciamo, il grande fratello, il burattinaio, non è del corpo direttivo, perché non ho razionalmente idea di come possano otto anziani che di economia non ci capiscono nulla, perché non hanno studiato nulla, poi fanno operazioni finanziarie particolari. Quindi già chi gestisce il discorso economico-finanziario è più, diciamo, attira più la mia attenzione, ecco, diciamo così. Ma questo è un altro discorso. Poi vi spiego perché magari, ma ve ne avevo già parlato in un altro video. Insomma, vabbè, Morris entra in questo negozio, si prende un sacco di whisky, tantissimo, tantissimo, se ne esce. Questo ha fatto scalpore tra community degli apostatacci. Allora la prima cosa che vorrei dire è questo. Se Morris è stato rimosso per questo motivo, e ripeto, non lo sappiamo, ma se Morris è stato rimosso per questo motivo, il testimone di Java dovrebbe farsi la seguente riflessione. Perché Geova, in questa cosa, non c'entra nulla. Perché non c'entra nulla? Dovrebbero smetterla di dire Geova pulisce, Geova pulisce la casa, Geova pulisce. Perché? Perché ormai è chiaro e lampante sotto gli occhi di tutti, veramente, chi ha un minimo, chi conserva almeno un minimo di razionalità ancora lì dentro, dovrebbe capire che i cambiamenti che fa la Watchtower sono cambiamenti che sono indotti dall'esterno, dal mondo fuori. Non da una preghiera che fa il corpo direttivo rivolta a Dio e c'è il cambiamento. Magari le quisquilli e le inezie dottrinali, le virgolette, le cambiano così, ma le cose grosse cambiano perché il mondo fuori cambia. Attenzione, signori, questo è importante da capire. E io vi faccio un esempio. Pedofilia in Australia si è tradotta in una modifica radicale del KS, in cui sostanzialmente gli anziani di congregazione, che per chi non conoscesse questa materia sono come i pastori nelle altre religioni, praticamente dovrebbero dire alle vittime di pedofilia di fuoriuscire. Cioè è una persona che mi guarda che parlo da solo e penserà che sono matto. Va bene, intanto ci sono abituato. E allora qual è il motivo? La riflessione che vi dicevo che dovreste fare è che anche in questo caso se Morris fosse stato buttato fuori perché magari hanno scoperto questo video del corpo di lui che entra nel negozio, ecco, allora lì è merito degli apostati. Cioè gli apostati tirano fuori le magagne che dovrebbe tirar fuori Geova. Oppure mi vorrete dire che Geova si serve degli apostati per tirar fuori le magagne del corpo direttivo? Veramente vogliamo utilizzare la logica in maniera così ridicola? Cioè, quindi veramente vi invito a riflettere. Se mai uscisse fuori che è stato rimosso per il video di Morris avete già questo ragionamento che vi potete fare. Non è possibile che Geova deleghi agli apostati il fatto di uscire fuori perché Geova vi dice che noi mentiamo continuamente. Mentiamo continuamente. Noi non sappiamo dire altro che menzogne. Quindi non è possibile che Geova si serva di noi apostati per tirar fuori le magagne del corpo direttivo. Quindi fate una bella cosa riflettete distaccatevi da quei pazzi del corpo direttivo credete a quello che volete ma affrancatevi dalla loro dittatura. Poi cos'altro possiamo dire? C'è un'altra teoria che questa non l'ho pensata io l'ho letta presumibilmente dovrebbe essere stata detta da Lloyd Evans o comunque da altri youtuber o attivisti che praticamente secondo quello che diceva Raymond Franz praticamente sosteneva che servono i due terzi dei membri del corpo direttivo per stabilire ogni decisione. Quindi ci deve essere appunto questa maggioranza dei due terzi. È uscito fuori insomma un po' il discorso ma anche sta cosa qua mettetevi i guanti prendete le pinze e veramente prendete sta cosa con le pinze che praticamente Anthony Morris aveva qualcosa da ridire sul discorso del sangue. Lui voleva insomma restituire il discorso dei trattamenti di sangue eccetera eccetera ora non entriamo nel merito perché non ho altre informazioni in più. Fatto sta che è come se dentro il corpo direttivo ci fossero due scuole di pensiero una diciamo conservatrice e una diciamo progressista mettiamola in questi termini. Morris mi risulta strano perché se lui è proprio il classico conservatore stereotipo del conservatorismo si può dire così conservatorismo ce la inventiamo del conservatorismo americano mi sembra proprio la punta di diamante il corpo direttivo cioè proprio il fanatico conservatore eccetera eccetera però corre voce che lui voleva restituire sta cosa del sangue. Fatto sta che se non fosse per la cosa del sangue ma fossero altri discorsi di qualsiasi altra natura praticamente Morris si sarebbe trovato in una condizione di dissenso rispetto agli altri e come Morris probabilmente ci potrebbero essere stati altri a pensarla come lui. Cosa succede? Entra in gioco qua il discorso che ho pensato anch'io appena mi dissero la notizia che poco tempo fa sono entrati due membri nuovi del corpo direttivo quindi essendo che sono stati due membri nuovi uno potrebbe dire si sapeva già che Morris sarebbe uscito hanno fatto entrare questi due perché almeno poi Morris sarebbe entrato dopo quindi avevamo già pronti altri due membri questo non lo possiamo sapere fatto sta che stranamente entrano due membri nuovi e poco dopo se ne esce Morris e non mi stupirebbe a sto punto se ne uscisse qualcun altro vabbè ripeto sono speculazioni torniamo al discorso dei due terzi cioè della maggioranza per quanto riguarda le decisioni si specula e ripeto si specula che abbiano fatto entrare questi due nuovi membri del corpo direttivo perché tra virgolette virgolettissimo utilizziamo sto termine corrotte cioè la pensano come quelli in opposizione a Morris e quindi loro voterebbero a favore degli oppositori di Morris e Morris praticamente verrebbe scacciato non si sa cosa c'è dietro fatto sta che se un membro del corpo direttivo viene rimosso la cosa è diciamo tra virgolette grave perché dobbiamo considerare l'impatto mediatico che questo ha sugli adepti attenzione vi ricordate quando si dice tra di noi che i figli degli anziani o i parenti degli anziani insomma chi gode di un certo privilegio lì dentro perché siamo esseri umani e quindi se qualcuno è tuo parente gli dà una mano quindi se qualcuno è tuo amico gli dà una mano quindi c'è sta cosa diciamo antropologica e anche sì molto appunto molto umana cioè si tende ad aiutare le persone che si conoscono e i parenti eccetera eccetera quindi già stanno attenti a non infangare il nome di Geova addirittura tenendo oscurati i casi di pedofilia non denunciandoli all'autorità e quindi qua capiamo quanto la società Watchtower ci tenga a dare una immagine una propaganda esterna che sia idilliaca ok ecco allora quello che vi vorrei far riflettere è l'importanza mediatica della rimozione perché poi un conto è se si dimette ma l'importanza mediatica di una rimozione del corpo direttivo e anche qua mi dà a riflettere una sterile un sterile annuncio su JV News anche questo mi dà a riflettere perché propagandisticamente non è molto efficace non è molto efficace c'è qualcosa che è più grosso che bolle in pentola perché è evidente che è successo qualcosa di forte lì dentro perché la mossa di marketing migliore conoscendo anche un po' le tattiche della Watchtower sarebbe stata sì magari lui era in dissonanza con i pareri degli altri e magari ha fatto qualcosa di particolare c'è stato un litigio acceso offese comunque la Watchtower avrebbe potuto fare una propaganda una pubblicità di questa cosa più rosea fare un comunicato ufficiale con la foto di Morris di ringraziamento per il servizio che ha prestato nulla di tutto questo quindi la cosa mi fa presumere che se pur la propaganda è rimasta così inefficace vuol dire che la cosa è più grossa di quello che forse ci immaginiamo ma ripeto questa è speculazione sono stati quindi riprendiamo il discorso della aggiunta di due membri del corpo direttivo e arriviamo poi voglio chiudere il video arriviamo alla ciccia al discorso che per me è il più complottistico ma ce l'ho qua ce l'ho qua da un po' di tempo io vi metto in descrizione un video che avevo tradotto qualche tempo fa che era fuori era praticamente fuoriuscito da qualche talpa all'interno di di Warwick e questo video era stato consegnato a Lloyd Evans siccome il video non era ancora tradotto in italiano io l'ho preso l'ho tradotto in italiano e l'ho messo sul mio canale ve lo metto in descrizione la settimana dopo è uscito in italiano tradotto con la voce del traduttore quindi se volete vederlo vi invito anzi ad andare sul sito della Watchtower che almeno avete anche la voce in italiano io ho i sottotitoli perché ancora era fuoriuscito prima non era ancora stato tradotto per dire i mezzi potenti di noi apostatacci che stanno dentro a Warwick vabbè il video parla chess plane che per la prima volta nella storia penso della Watchtower perché ho parlato anche con veterani e non mi risulta che questa cosa sia mai stata detta dice explain testuali parole la magistratura anche ci fossero dei processi a carico dei della Watchtower comunque dei processi intorno ai testimoni di Geova la magistratura potrebbe essere corrotta perché apostati di qua a là quindi non ascoltate le notizie legate anche ai processi agli scandali giudiziari ma ci ha dato dentro per questo vi invito a guardare quel video lì ha diffamato pubblicamente la magistratura le autorità giudiziarie non si sono mai spinte a fare una cosa del genere anche perché sarebbe un autogol anche perché nel momento che loro veramente hanno dei processi a carico tu gli porti quel video lì nel tribunale davanti al giudicizio guarda cosa dice della magistratura questo qua allora perché questo explain membro del corpo direttivo ha detto queste cose sulla magistratura era evidentemente propaganda interna e la propaganda interna non funziona all'esterno è questo che diciamo loro questo è un limite intrinseco della propaganda cioè se fai propaganda interna questa propaganda interna è strapolata all'esterno diventa un boomerang contro di loro questo funziona anche per la propaganda politica nelle nazioni funziona veramente per tutto proprio per la propaganda in generale e allora quello che penso io ripeto è una speculazione è un complotto è che prima o poi alla porta della watchtower busserà busserà la magistratura e quello lì è stato un discorso preparatorio per preparare le menti degli adepti ad accettare questa cosa qua perché quindi Morris sarebbe stato rimosso in un contesto che vi sto proponendo fantasiosamente ripeto l'unico indizio è quel video che vi ho dato in cui si dice peste corna della magistratura degli organi di stampa però la magistratura era la prima volta che veniva attaccata in quella maniera lì corti corrotte queste cose qua ebbene non mi stupirebbe se un domani si scoprisse che Morris sarà indagato per qualcosa qualche scandalo legato a chissà chi a chissà cosa non lo possiamo sapere ci sono notizie che arrivano dall'America che un anziano si è suicidato e altri due membri insomma c'è stato insomma ci sono tre indagati appena avrò informazioni più precise magari ve ne parlerò sapete che io ne parlo quando so le cose però si sa che verso gli Stati Uniti ci stanno in mezzo dei problemi giudiziari e allora a me non mi stupirebbe che Morris è stato preventivamente buttato fuori di modo che il corpo direttivo ha il movente all'alibi di dire vedete che il carro di Geova va avanti vedete che noi agiamo prima delle autorità del mondo perché la nostra organizzazione è sospinta dallo Spirito di Dio vedete che noi abbiamo intercettato questa cosa lo Spirito ha parlato e ha fatto pulizia nella casa di Geova non abbiamo aspettato qualche condanna dei tribunali del mondo ci siamo già mossi noi si è già mosso lo Spirito di Dio di Geova signori questo è quello che io in parte credo e non mi stupirei ripeto se in futuro usciranno cose che investiranno il corpo direttivo ripeto questa è speculazione pura speculazione sto pensando cerco di capire se vi ho detto tutto delle altre ipotesi che giravano in rete però secondo me questo è quanto ci sia da dire per adesso magari ovviamente se ci saranno novità vi aggiornerò quello che volevo dire è che questa sorta di ilarità che ha scatenato questa cosa del fatto che c'è una certa contentezza di vedere Morris deposto da membro del corpo direttivo è proprio che lui ha detto peste corna dei fuoriusciti degli apostati dicendoci fondamentalmente con l'esempio del fiammifero che saremo bruciati nel giorno del giudizio e che quindi loro ci avrebbero calpestato che lui non vedeva l'ora che Geova ci stermina ci stermini ecco scusate non vedeva l'ora di vedere questa ecatombe mondiale di morte voi capite che soggetti sono questi qua non dovremo augurare il male però quando si parla dei nemici di Dio sarà un sollievo chiude quindi Morris eri alle stelle ora te ne vai nelle stalle e forse capirai con le tue con i tuoi occhi che nella tua organizzazione è facile parlare quando va tutto bene i problemi iniziano quando inizia ad esserci un dissenso interno io mi auguro veramente che questo individuo possa veramente generare un qualcosa come è successo con Raymond Franz la vedo dura ma questo è quello che mi auguro affinché più persone dei testimoni di Giova possano svegliarsi perché questa organizzazione è un'organizzazione pericolosa e lo avete visto nel documentario che ho fatto sull'ostracismo questa è un'organizzazione pericolosa signori diventa pericolosa quando si esce e a tratti è pericolosa anche quando si sta dentro e dico questa cosa tranquillamente senza paura di una querela mezzo stampa eccetera eccetera perché abbiamo testimonianza dei processi in giro per il mondo dei casi di pedofilia che non sono stati fuori tirati fuori pedofili che hanno continuato a perpetrare la loro il loro reato gravissimo nel tempo perché non sono stati consegnati alle autorità perché non sono stati denunciati alle autorità le vittime tacciate zittite vittime che nella maggioranza dei casi sono diventate poi apostate e quindi a maggior ragione non ascoltate capite che una organizzazione che permette una cosa del genere è un'organizzazione che non voglio dire criminale paracriminale perché qua ci troviamo dinanzi a una setta comunque un'organizzazione che crea disastri sociali che porta le persone in una piccola parte fortunatamente a suicidarsi come abbiamo visto nel documentario che ho fatto poco tempo fa vi invito a guardarlo se non l'avete visto ostracismo l'emarginazione che uccide ve lo metto in descrizione nella notazione come la vogliamo chiamare un'organizzazione del genere non saprei che altro termine trovare detto questo cari amici apostatacci ci vediamo al prossimo video grazie di essere stati con me e ci becchiamo alla prossima